Santa Maria di Licodia e Biancavilla sono evacuate dai tedeschi qualche giorno prima. Molti paesi etnei sono attraversati dalle truppe britanniche, tra essi Belpasso, Trecastagni, Pedara. Sulle colline di Fleri gli alleati collocano alcuni pezzi di artiglieria pesante. Un fuoco incessante viene aperto sulle truppe tedesche in ritirata verso nord. Con l'occupazione di Bronte e di Randazzo, situati sul versante ovest dell'Etna, le forze dell'asse sono chiuse in una morsa. Le uniche vie di fuga verso Messina restano quelle costiere. A nord la Tirrenica, dove continua ad avanzare l'esercito americano. A est la Ionica, dove dopo la conquista di Catania si spingono i soldati di Mongomeri. Qui l'8 agosto viene occupata a Cireale. E il 14 giardini e taormina. A presto! Grazie.